La notte è buona notte voi, come va tutta a posto, tutta a posto. Ah! Un, due, un, due, un, due, un, due, un, due. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Fai. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Che mi dici? E' morto. Buonasera, buonasera. Esci a questo conciotto. Allora, buona... No, 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 esci dopo. Buonasera a tutti, ragazzi, buonasera. Allora... Stasera, eh? Stai bene? Gioca un tocco di niente di telefono. Haha! Allora, ragazzi. Stasera dovremmo replicare un dolce di Angelica. Ciao, Angel! I famosi maffungo. Cos'è si chiama maffungo? I maffungo. I maffungo. I maffungo. I maffungo. I maffungo. Cos'è si chiama cosa? I maffungo. I maffungo. I maffungo. I maffungo. Un rinno di giocare. Un giallo. Non lo metto. Si vede lontano. la sera. No, ragazzi. No, no, no. Si vedono benissimo, eh? Lascia, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. minuto, no ragazzi si vede bene ragazzi a me cosa verrà Giovanna, si verrà abbastanza l'eserano Giovanna, i muffins, che sono i muffins, buonasera, io già posso fare stasera però, allora io dovrei fare una ricerca, ah Giovanna non toccare niente sul telefono, oi Giovanna Frondè, è Giovanna che tocca sul telefono, uno toccare, sta ferma, allora cosa si chiamano Giovanna, tortino, tortino cuore caldo, ma quale cuore caldo Giovanna, diciamo l'hai scordato, allora come si fa per condividere, Maria Grappa basta mettere mi piace condividere, vedi che prima di entrare in diretta, tesca, condividere e mettere un mi piace allora, allora ragazzi, i muffins, a me fate, ho tortino al cuore, ah, già va a rire, caggiamo, già signor Luf, già sono ingressi sono nervoso Löwker caggiamo, 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 damals ha organico, penseri aia e dicendo, avevano a rire, etc, comando già posso fare morire, allora, caggiamo in diretta guy,WAYías, cagg 0qx i vox i sinus leftover hayd da capire, questo lo voglio dire da capire che noi stiamo facendo più di una diretta al giorno è normale che Facebook mi restringe a guagno, quindi già quando arriva a 700-800 persone va più che bene, ragazzi perché è normale che Facebook ti restringe a guagno e Facebook catturna questa popolarità guagno, parliamoci che cosa allora vanno a cominciare per tu tu non hai senso io devi fare una cosa però non è chissaccio allora, che mi portano? 110 grammi di burro 110 grammi di cioccolato per ogni piatto luffo di cioccolato 2 uova ma quando sui la farina è 25 grammi Giovanna Giovanna Frondena ma 25 grammi di farina come non sui, se chi si parte a 200 già cioè Romano Romano è festa io e San Martino cioè aspetta calma calma il sangue freddo Giovanna Frondena se tu mi hai scritto 25 grammi di farina non mi sono sola qua se Giovanna se Giovanna non mi risponde ma Giovanna Frondena io la bilancia se ho provato tutto da Baradame ci voglio provare guardate che festa c'è 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 la sera c'è cazza di beneficenza quindi di beneficenza di domani è spostata quindi domani sera da cazzo io aggiornerò mano a mano, io ho la nuova mia, Giovanni non ti chiama, ma Giovanni io mi fassi che c'è di stasera grazie Caterin, ma appunto Caterin chissà bene o male, dai Umbeto dai dai dai, facci il tuo, come è stato un broghiando, già la finisci la mano, sì Giovanni, che botta mi ha detto no, e che botta che ha fatto Giovanni, malattissimo, ma che botta ha fatto? aia, Giovanni lì vedi tutta la carne a god, ingacciamata, mi ha arrivato e mi ha fregato la botta di questa mano, il rumbo e tu mi hai giusto proprio sulla capa, e lei non mi ha posto l'occhio? Giovanni, chiamami i rocchi per la ricetta, aspetta la n***a si è tutta inpaigliata, aspetta, aspetta ma la notte finna senza che rire fu rire Giovanna, Giovanna Frondella è raduta, lei non è stata radica ahia che botta ma è bloccato pure la trettezza, non è che legge una cosa ma e che botta che ha piatto, Marce e fa i maffetting Giovanna ha afficato nuova la casa, e allora Gioca nella polizia, Gioca non mi possa fare A manito a me C'è... Come il? M'è ciotta! M'è ciotta veramente! A me che sta facendo? E' il basso! Ma quando si è ciotta? Quando si è ciotta? No! 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 Ferma! Ferma! No! 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 ma sentite con l'ira ma mamma mi ha mangiato la capa mangiato l'altra c'è una macchetta mia c'è voglio aspettare a casa c'è tutta mamma aia ma ti sbriga un attimo pur un attimo eh la santa figlia corrigi alla nonna ah guarda la farina aspetta tutto mi ha inguagliato guarda guarda la casa mia aspetta guarda la non sei oh ma la capa mi fa male guarda guarda ecco guarda aspettate aia guarda guarda la capa guarda aspetta guarda raga 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 c'è raga ora ve lo fate dire raga vai c'è raga se noi giovanna abbiamo scherzato per un uovo non si muore di fame per un uovo non si muore di fame ma c'è gente veramente gente veramente boh non lo so ragazzi dove me la capa ma c'è raga per un uovo fateci la discussione se è bello i tuoi capelli bianchi ma vuoi a tutto comunque giovanna c'è la pistica aia allora ora te ne vuoi giro che buono buono brava grazie ma proprio una pesantezza c'è in giro raga ma veramente raga ma veramente ma scherzate su ma scherzate raga c'è per un uovo si muore di fame raga hanno perso l'occhio che hanno fatto un po' nulla guagno buono oddio aia capa però mi fa male la capa grazie ancora no no e poi se mi vede la faccia la doccia quello mi fa la ricetta allora giovanna fammi la capa però aia mi ha sbattuto l'uovo e la capa c'è proprio la cucina comunque raga io dovrei fare il muffin giovanna fondena mi ha dato questa ricetta 110 grammi di cioccolato fondente 110 grammi di burro 2 uova 40 grammi di zucchero e 25 grammi di farina no io penso che il burro aspetta giovanna chiama mi ricordo allora raga se mi chiama giovanna forse riesco a fare la ricetta saluta le gemelle noeme e sonia ciao 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 giovanna ha scherzato io gli scherzi li accetto di mia moglie parlo oi giovanna dimmi una cosa hai sbagliato il burro allora prima facciamo il kit poi facciamo il bastric ma poi vuoi fare con il frullatore oppure con il burro ancora il frullatore guarda 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 il frullatore lo vedo in diretto il frusto il frullatore lo vedo in diretto lo vedo in diretto lo vedo in diretto lo vedo in diretto ma non un pochino di plastica perché c'è il caffè e ma questo sono 50 grammi su aspetta che noi faccio le città ah ma 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 allora c'è c'è ragà sono nervoso gina ma lasciateli stare gina andiamo avanti l'importante è che ci stiamo divertendo ragà cioè dobbiamo anche divertirci ragà noi c'è i guagno un uovo ragà per un uovo ragà semiglietta tante mangiare i guagno i guagno mi hanno guagno tutta la farina quindi oh Ilaria Smurla ma è un cognome che ha conosciuto Ilaria Smurla ma si hanno fatto i costi si hanno fatto e hanno fatto i guagno Ilaria brava Maria Tosta stanno facendo una cagina per nuovo ci sono altri problemi capito ufff qua stanno facendo la vulga allora si sente poco allora questo qua e io come riesci a capire se si sente ma no Katia non ci mischi l'albero tu gioia questa balanza ma 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 mi raccomandano loro un'altra cosa non mi raccomandano ma mi raccomandano stasera 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 un'altra cosa allora io sento bene ragà io non lo so io non riesco a capire come si senta comunque ai giorni mi devono arrivare i microfoni ragà quindi questo per rappresentare anche un rire cacca con due ditte io mi raccomandano però allora giovanna frondera ha detto che a me sbagliare in bagnomaria la cioccolata del burro cacca no vai sei imbuttonata oi vai imbuttonata ma arrivi imbuttonata ma quando l'hai vendita sul forno chiamo giovanna giovanna ma quando l'hai vendita sul forno mi stasera mi stasera lo so Rosamore mi ha scordato avranzo 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 ma le scuaglie che scuaglie che scuaglie che scuaglie che scuaglie che scuaglie in bagnomaria a 180 gradi ma giovanna frondera ma questa ricetta no ma con il forno mi ha scuaglie ma stasera si può fare questa ricetta se questo è stato detto giovanna frondera mi ha risposto che mi ha indossato ma mi ha sbagliato che mi ha rito a manito cioè ragazzi io lo so perché sono contento perché tutte le sere mi arrivano dei commenti dicendo che Giovanna non sorride è depressa mia moglie parliamo per stasera che sta ridendo sta scherzando stasera 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 ma basta oh caspita ora sono ribellato della Giovanna non 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 si stava allora ora sono ribellato Giovanna quindi Giovanna vieni qua ma adesso quando scrive aiutaci un cuore allora stasera stasera andiamo a casa qui ho un altro ora mi fai la bagno ma buonasera oh Sandra sei sbagliata Giovanna quindi caspita stasera quanto spesso mi fai la casa l'oro hai tutta lì 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 ti posso garantire lì ti posso garantire ti posso garantire che quando vi manderò uno screen ve lo manderò se allora ci mi devono andare lì allora mi ha fatto male non fa male la coppa però mentre c'è l'acqua e bagno mario ah ragazzi è un rito la ricetta la ricetta sembra ricetta la cassa lavoro ragazzi Angelica no questo l'abbiamo a capire mi ha mandato i cornelli ragazzi uè psst accendati da prima poi li renderemo grazie ma che mandino ecco certo allora prendiamo della cioccolata fondente 49 centesima colitura in offerta la cassa e la cassa e la cassa io mi muore la cassa pure la ricetta è la cassa c'è un ragazzo allora quando la bagno mario io penso che sia così 125 grammi un po' di cioccolata è 100 grammi ci sono grandi meno al microondi no 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 che si è picciata la cassa la cassa ma se c'è una frondera cacciare un burro 110 grammi il burro è 125 però allora lasciamo un pezzalezzo allora mettiamo tutto il burro ragazzi è un po' di cioccolata è un po' di cioccolata è un po' di cioccolata ma poi con le fasi stanno bene un po' oh Giovanna Frondelli ma tante ricette allora allora Giovanna guarda è un po' di cioccolata ma prima che mi sta chiamando allora sicuro che ti fa male ma quello li avete a dire ma tu hai sbagliato troppo affortunato che non c'è mai li avete già riscetto no già vanno a prendere aspetta staccati una cascata ma c'è stato sbagliato già vanno a prendere ma non va mica me ne zumba di rena aspetta già vanno a guarda qua non so sbagliare l'intera la miseria ho pure l'intera me l'ho sbagliato allora già vanno a prendere ma veramente ci vanno a prendere io non ce ne voglio a prendere questa ricetta gina non ridere già vanno a prendere ma ti aiuta che ti ha detto no io mi stanno facendo un pieno di calorie tu stai sbagliato e tu non hai tu stai sbagliato aspetta già vanno a prendere oh ma adesso mi hai sbagliato stasera io non ci sono ma che fa un pezzetto ma che fa un pezzetto ma che fa un pezzetto non muoce la cucina ma lei non è un tempo no 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 no! ma poi con i fatti c'è i bambini che li trovati no 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 ah voi che stai chiamando dove alla fronte è una sottostata stasera? oh 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 cos'è Roma? ah un pavaggio aspetta aspetta va avete sentito ragazzi io poi ripeto Giuseppe hai sbattuto la capa la testa guarda gli aspetti il birro dove trovi di avere questi birro e che ne sai ci? mi hai chiamato da quando ho stato gli scavoli del birro che ne sai ci io? guarda gli aspetti ah forse a Roma è più speciale però non sapete cosa ah 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 quando c'è la testa non c'è la testa non c'è la testa quando? non c'è la testa 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 ma la testa ecco guarda gli aspetti acqua di acqua, e non la riccio. Allora ragazzi, calmi e sangue freddo. Giovanna mi ha detto di fare i tortini con burro e farina, ma troppo piccolo si sma le tortine però. Sì, ma poi ho messo in scolta. Già va. E non ho capito che questo. Ando ecco, come ho la cattina. Mi sa che a Roma non si fa tutta la capa, perché dopo si fa tutta la uscina, si fa tutto. Allora, aspetta. Allora, l'uovo le metterò. Ma ho detto che l'uovo, una volta con il zucchero e la farina. Ma la cioccolata mi ha messo pure un po'. Non è che l'hai capito? Vane. Caglia, ma che non sai che ancora non hai fatto un gioco? Aspetta, vane. Ciao, mina. Allora, ragazzi. Giovanna Frondè. Poi, la cioccolata con il burro. Vanno scattati con la farina, lo zucchero e l'olio. Penso di sì. 12, non di più. Ok. Il minuto l'hai capito? L'11 minuto. Allora, prendiamo la scolta. E' fatta, Giovanna. Allora, non mi pu10. Allora, non mi pu10. Aspetta. Ecco qui la chiamata, non mi pu10. Non mi pu10. Vi due per lì. Ma io non mi pu10. Non mi pu10. Allora, ci siamo risparmi da tutto. No. Non mi pu10. Non mi pu10. No. Il minuto. Questo è il minuto. Il minuto. dimmi una cosa, non con le mele, quale mele che stai scrivendo tu ne avete pure, allora aspetta, ragazzi aspettate, pure i venti mi hanno rubato, aspetta, ragazzi non lo so veramente ragazzi non è capace la nostra, ragazzi veramente, allora dicimi una cosa, ma poi la cioccolata l'hai miscata insieme pure, c'è insieme tutto da fare, e l'hai fatto già là, si stanno sbagliando, e poi l'hai capito, vabbè, ora hai capito, ok ciao, ciao, ma la nuova mia, perché ne voglio dire stasera, che sei fatta la scuola, ha detto Giovanna, caccia le dà, meno di riuscire a casa di raffreddare, c'è qua al mondo, non posso dà l'occhio, per piacere, ero prima e la stima volta, lì c'è me sa cosa, c'è una amica di Angelica per farlo con l'occhio, e me le hai fatto via, allora, allora ragazzi, se non posso neanche salutare, ciao Giacinda non ridere, che io vi tutto, allora, non c'è niente da fare, allora, ripeto, ha sbagliato tutto, allora, fai vedere, ha sbagliato la burra e la cioccolata fondente, ecco sì, ma adesso la dà, fai raffreddare, ma piano, 25 grammi, 40 grammi di zucchero, ecco come sugli, come, oh mamma mia, aspetta, caccia le dà, caccia le dà, caccia le dà, no, no, non ti ho la lanza, non lo vedi, allora ragazzi, 40 grammi di zucchero, caccia le dà, caccia le dà, caccia le dà, caccia le dà, qua, a tutti su cosa, ma mamma mia, mi ha detto, è così, ma, ditto, pure tutto ciò, ma, aspetta, ma noi c'è la хотta, prima cosa, ha sbagliato, poi mi hanno fatto un serno, javano pronti aiuto, io mi ricordo, ma sei sbagliato tutto tutto insieme comunque 25 grammi di farina quando sono 25 grammi 25 grammi 6 e 9 io non lo faccio io faccio il mio domicchio ragazzi io faccio il mio domicchio ragazzi come ci riesce non ci può stare niente c'è quello che c'era la capa giovane che mi ha trattato un malone e mi aveva la capa te l'ha ampezzato su tutto te l'ha ampezzato e la presa te l'ha ampezzato ma fuori ma fuori non ci può stare non mi muovii sta non mi piace ma non mi piace 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 ma che vuoi? ci braccia? bambini non mi piace ma te lo faccio ma tu hai preso la motorella attento ti piace eh buonora eh no guardina ha preso c'è guagno non te ne va una buona Lorenza perché non lo so utilizzare aspetta guagno ti faccio un sbraccio su cosa ah la cioccolata è la fine ok allora metterò un uovo a com'è capito un uovo ecco parla che è una sola se ti ascuota la buona come fa tutto rosa salgata almeno la salgata al sole non lo so cacciavano i petto i salgati allora Giovanni mi ha detto nove volte giusto quando è poi io ho una farina la salgata al sole la salgata al sole poi la salgata al sole sto facendo sto facendo oh giù si c'è giù Ernesto sto facendo sto cercando di replicare una ricetta angelica i matto i matto però non ha sexo cioè una cosa è che si può venire oh ma è che è che ah ragazzi comunque a giorni entrerà la fitness quindi dopo un dolce dopo un cucinato hanno fatto l'esercizio quindi vi raccomando mi lo ha la capa Giovanni no no basta basta non sento che stai a dove la trovo metteremo il secondo uovo come ha detto la frondera a me che bello grande su eh l'uovo urrido cazzo ha già tanto vino nel tamuccio eh lietta la salina lietta so nella patina no sta ferma prima del nuovo era un tocco ma come faccio io mi scato con il nuovo c'è la patina io mi scato guarda non era proprio giovanna fronteco fia di venire vado su direi se mi ha la telecamera fuori giovanna fronteco c'è la patina per rispondi suonan comunque ragazzi io veramente palla piano io vi ringrazio quasi 800 ragazzi quasi 500 da Angelica e quasi 400 stamattina ragazzi veramente grazie se non vi arriverà la notifica molto spesso ragazzi perché ci sarà c'è una motivazione ragazzi essendo che sto aprendo più dirette facebook mi riscigia però va bene così ragazzi abbiamo superato 800 con una diretta fatta da Angelica nemmeno due ore fa ragazzi veramente grazie veramente di cuore l'importante è che hanno rievertito quando mi fa male la caca mi hanno sempre rievertito no piano sai male che sta cioccolata come anche c'è la frondera cioccolato e burro mh stava bene tu stava dentro allora è squagliata la cioccolata con un burro ecco tu metto più di farina no 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 vai qui no no capo fai oh è venuto già la natura è venuto guarda è venuto guarda è questo che è buro farina ah sì sì guarda la natura è guarda nuova mia aspetta no no è venuto Giovanna Frondè così è di venire Angelica viene così ma Angelica non è stata pura che deve passadina non è che ha male le spugno allora bene è così è di venire aspetta Giovanna avvicino su cosca aspetta no no ferma Giovanna Frondè così Giovanna Frondè Frondè sei romano Giovanna è malandostata Giovanna ti vuoi? va bene Angelica ah meno male hai visto Angelica meno male allora io non ho trovato quegli stambini se non è c'è guava c'è è nulla via se non è l'idolo è nulla via se non è l'ospinio è nulla via all'ultimo ho trovato questi stambini io sono piccoli allora voi mi ci hai affattato un cuore allora ora mi hanno detto vi ho piaciuto una grande Giovanna fai questa cosa non so non so non so allora ma ma non vieni scusate funziona ma c'è 180 grado ma rito io non ho capito cosa fanno queste cose ma no c'è voglio aspettate ma io mi ho intendo sub allora ma la rimane su net però mi lancio mi ci vuole una capa allora piano se stai con su piccoli scos piano una gramma di burro ma dice così c'è più piccoli sono ecco sì a me non c'è sette non c'è l'anime ma che ne vuole fare il frascoso 180 grado per 10 minuti povera povera non c'è nessuno comunque il composto è venuto buono ragazzi grazie mina greco l'importante che il lievito non ci no capica le grotte ma altrimenti c'è il lievito di birra che deve ha sbattuto veramente la coppa tosto basta il più difficile è riuscita a fare una cosa cioè non so i dosaggi bene però per calentarsi è giusto una cosa è giusta da riuscire cioè ma hanno potuto con un vino sgosto vergogno meno male che la coppa mi sono fermata tutta la casa mia ha detto io avere questo e vabbè dammi questo e non è fare giovane quando ce ne vengono bucchissi parecce non è venire i rupacni a cattare si beh come eh Paola cioè ragazzi io ho preferito fare andare Angelica perché avete visto come è precisa molto io vado vado in catalesso vado in coma perché i guagni non sono importati per dolce la voglio di che cioè i dolci i dolci natalizi sì perché lo faccio però questi qua quando usate se vado frullatore io non ce l'ho buono allora noi prepariamo la cucina a me che sta bene già la mia prontina è un ballonete se sta bene dieci minuti oh guarda vai qua quando allora i crustoli ragazzi la roba natalizia li farò prima di dicembre ragazzi come tradizione poi faremo il maiale con mamma vi farò vedere tutte le provviste mai alizia quando dicembre e gennaio sono i mesi più belli per me mi piaceva fare i provviste Giovanni si è mutu un altro ma per me mi aiuta forse sta bene se la voglio morire allora dove si mangiava oh mi ha chiestato che dove non mi ha la capa Giovanni non 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 dipende l'elettro basta uschersi bello quando dura poco secondo me c'erano già me niente soccorre soccorre quindi ti ha chiamato chi ti ha detto quando siete falsi ero quando si sente tutto certo ero quando ne sento manuva qua ne passano tempo quindi comunque è meglio farlo imbastare la pizza se non ci puoi accari altro capo oramai vuoi fare i panzerotti cioè già sono un altro io ma figli mo vabbè faccio il mondo tanto cresce nello stesso cosa è buono prima se gli stambini sono piccoli non cuociono prima di dieci minuti Anna quando ci va allora io ho nuova mi giovanna ciao andone ancora oh andone che dove hanno su all' quando quando ho chiuso scusa c'è però voglio carità che non mi ha tempo ma la nuova c'è un po' di pazienza l'importante è che ci divertiamo chi è dell'importante? non ho la capa però giovane mi ha trattato i piedi ma non ho la capa però ti chiedono nuove cose che ti chiedono tanto quando vengono a Roma vengono a Roma vengono a casa quando vengono a Roma vengono a casa e mi chiedono non c'è ora vengono a casa ma non lo so domanda a Giovanna Frondera come è l'ingera Giovanna Frondera ora si può cucciare l'ingera penso di sì Giovanna aiuto ma quale aiuto Giovanna Frondera è sparita ora si può cucciare penso se viene la Giovanna se viene la Giovanna se viene la Giovanna come è l'ingera come è l'ingera? aiuto oh non fai rumore Giovanna che peccato oh no 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 oh se può cosa? senza la carta? senza la carta che è stata fatta non è l'ingera aspetta ma sei l'ingera aspetta non c'è più non c'è più non c'è più non c'è più che ne voglio fare e sbattolo io non mi dico perché se no adesso mi compie non è assolutamente tutto stabile secondo me perché sono troppo piccolo non c'è più non c'è più ma spero oh che è successo? 18 no 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 non c'è più la verità guagno a manito che è un peccato Giovanna mi ha detto 13 minuti GIOVANNA 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 non ci sento più un pe troppi pieni ma la mamma mia un pe massimo 8 minuti ma ha detto 18 minuti troppi pieni stai facendo vabbè fare questo e vabbè ma state lì giro sul stambino guagno però fa che una ricetta che non è mai fatta scusami 12 cioè guagno che stanno facendo la tombola ti escono tutti fuori oh GIOVANNA dimmi che è successo ma ma adesso lo stai giocando e ti stai dicendo che GIOVANNA che va ah ho un romano giù giù ma secondo te lo troppo piccoli massimo 8 minuti ma è massimo 8 ma puoi nascere fuori non puoi nascere fuori non puoi nascere fuori no 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 non lo stai facendo chi non sai GIOVANNA ma non puoi nascere fuori ma si bruciano ma io ho già ottenuto il cacciaio pure quello il cacciaio ma è il bordo ma cosa è venuto? ma è il bordo ma è il bordo ma ma veramente io che mi serve a ruggire ma senta tutto non ma è il bordo ma è il bordo ma no poi GIOGIO che finisce verso i stambini ok ciao ciao GIOVANNA a chi cacciaio per la metteria la metteria se non non è il bordo ma è il bordo ma è il bordo male ma mi hanno fatto dire proprio il bordo che si 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 non c'erano in giudice se c'erano il carbonazelmo c'erano questi piccoli stambini non li ho trovati veramente ho pagato più questi che i grandi costavano non li hai potuto trovare e poi i primi che trovate non li ho chiesto e stai stai moste lega estetà da ho chiusa a fatt a si ragazzi 6 o 7 minuti massimo 8 e se no che si fai la video allora ragazzi come faccio allora mi ha già un angolo no 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 ciao 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 oh lo sai che facciamo Giovan tanto cancello che hanno andato i cornetto mi è rimasto un po' di scolato oh 10 minuti Giovan sull'altro guarda sino 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 no l'orario Giovan 21 e 39 40 e 45 ah senza lievito no a Giuseppe sempre no non aspetta Giuseppe ma Giuseppe ti metti un lievito di birra ciao allora ragazzi siccome Angelica mi ha mandato dei cornetto ora metto un assaggio qua guardate così ci consumerà anche questo burro ragazzi? ciao Eda allora parlare con Maria Giovan perché mi fai sennò? Leonardo Pescello no cosa no GioGio? per domanda oh Giovan stiamo a cacciare le 21 e 40 eh ah le 21 e 40 vabbè non si vedeva un po' cosa si mangia stasera? i muffin quelle là del forno ragazzi i muffin di dolce si ma ne muoio a fuori ma si ciao Angelica Lina ciao Gianella allora ragazzi questi sono i cornetto che mi ha mandato Angelica ora ora sei sguardo a andare a scuola c'è Manella, c'è Giussi però non devi sguardo a scuola c'è il burro di oggi la mamma grazie c'è Angelica c'è Angelica c'è Angelica c'è Angelica oh guarda la taglia le 21 e 41 no le cacciate Giovanna Giovanna chiamma Giovanna cacciate c'è Romanna cacciate cacciate e boccacciate sono le 21 e 42 sì caccione cacciate già ma che sia olutions però a me mi sembra una crura, però aia come si è pulmata bruciata allora ragazzi, che poi le dimmi le cornette e cosa? eh Angelo? si, la sua è asciutta la sua è buona? eh già no no, già su corto Giovanni già su corto, già allora io l'ho messo e... vu allora 5-7 minuti sono passato pure Giovanni ma io le faccio dirle Giovanni farlo vedere aspettino di Fabrizio ohè, Giovanni, vedi già diretto aspettino che è stato Giovanni, aspettino aspettino che è stato Giovanni, aspettino dove va di roba allora beh, ma che cosa non vuoi? ma 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 non vuoi? non vuoi? ma non vuoi? ma non vuoi? ma non vuoi essere banca dove c'è scritto? fierella c'è? ma tu sei bloccato, non l'avete bloccato a diretta allora crudi? 21,38 e non c'è cominciare a dire che ne è crudi, ne è cotto non mi ha fatto un libro che ha oh Anna ciao aspetta, sono crudi? secondo me devono stare un po' prova uno, devono stare la poi mi dimmi ok l'altro uno dammi il forno al carro ecco qua ma ora non va mica il tuo forno ragazzi l'ho rimesso in forno 11 scordoni dopo nemmeno no no 8 minuti è certo 8 minuti quasi comunque non arrivere per ora vabbè non l'hai messo il tuo forno per te non va sì 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 fa stare guarda 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 qua guarda qua ciao 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 allora raga Angelica mi ha dato i cornetti qualcuno ha detto che non l'hai chiuso è perché è caldo ma vuoi che è caldo, stanno cuocendo Giovanna è caldo il forno è caldo, allora Angelica mi ha dato i cornetti ma vuoi? ma io l'ho aperto e ci mi piace la culata che ci è spagato c'è una calma no, mi metti un telefono, stanno lì sì è caldo, Giovanna, è caldo è caldo no, mamma mia, è caldo, è caldo, è caldo, è caldo, è caldo, è caldo, è caldo Giovanna, non te la prendi con me ah, le pate vuoi dire che sui maletti buoni sta bene ah, ha detto Giovanna che ti vuole bene oh, i sui maletti buoni mi sono preso nel peschio ah, sei vero allora, Angelica, vedi? complimenti a Angelica, veramente, non so Angelica, complimenti dove andiamo? come le dico? vincenza, ciao vincenza vuoi zucchero e l'alba? ci sono le mie ruppate ma non si può scaccare ci sono delle cose che sono che stanno piacendo no Giovan, i guagno stanno più scendendo, no, giù si, ma la nuova vita stanno scendendo i fuori, Giovan, ma capite, Gio Gio, ma poi c'è guagno, mi dacci l'angolo, no, ma non si brucia, no, basta, no, non si può, ha ragione, siete sposti, vabbè, non ho fatto mille, una pizza o due, è cotto, no, ecco qua, ragazzi, vedi, è super no, 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 ecco qua, ragione, eh, come qui va dire i miei minati, no, so come a casa, ok, no, ecco qua, ragione, a 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 io ci aggrego anche il cornetto di Angelica però troppo articulata non fa male il sonno Maria Angela hai ragione si sono asciugato le ritmi che non è cotto mangio un cornetto si sono asciuttato ma che buono no ma sono buono soltanto che si sono asciuttato guagnotista comunque ragazzi io cosa dirvi quasi 800 anche stasera ragazzi veramente grazie domani saremo di panzerotti non andrò a cariati perché per problemi di maltempo ragazzi hanno dovuto rinviare la testa di beneficenza quindi domani mattina sarò in diretta domani pomeriggio ci sarà Angelica con il figlio che ha detto io non so quale figlio farà e domani sera ci sarò io con i panzerotti a breve ci sarà anche una ragazza che farà fitness zumbo quindi ragazzi preparatelo caro puto oggi a me di magrillo noi ci vediamo domani ragazzi grazie ci sono sudato ragazzi mi sono venuti i calorici e brava Silvana ha dato presto l'ora ha fatto i figli check out cioè ragazzi veramente siamo stati più di un'ora cioè grazie veramente 400 stamattina quasi 500 da Angelica e quasi 800 da me veramente grazie ragazzi io vi lascio una buona serata Giovanni saluto ragazzi perché chiudo io la diretta ragazzi noi ci vediamo domani con l'impasto dei panzerotti quindi domani facciamo un panzerotto nuovo io vi ringrazio ragazzi la ricchezza è semplice per quattro tortini 110 grammi di cioccolato 110 grammi di burro l'uovo 40 grammi di zucchero e 25 grammi di farina quindi la ricchezza è molto semplice ragazzi io vi lascio una buonanotte un bacio a tutti e aspetta mi saluto Giovanni che io che io ragazzi saluto io ragazzi grazie a tutti se vuoi ragazzi non occupate ah si ragazzi comunque ragazzi vedete come sono venuti belle ragazzi si vede tutta la diretta ragazzi io ringrazio facebook per questa opportunità che mi ha dato grazie dell'inquadratura noi ci vediamo domani Giova guarda i sub che se non si vira un bacio a tutti ragazzi e grazie ragazzi buonanotte ragazzi ciao 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 ciao